A Simona De Eugenio, titolare di Agenzia Investigativa per Indagini Civili e Penali, rivolgiamo una domanda in questa serata di moda. Qual è l'importanza dell'investigazione nell'ambito della moda? Buonasera, grazie per questa domanda e felicissima di essere qui perché ho sentito una stata veramente bella. Le rispondono in modo molto spontaneo, per esempio la propensione a venire in questo evento, devo dire, inaspettato e sorprendentemente positivo. Nella moda c'è molta richiesta di investigazioni per quanto riguarda il segreto industriale, il segreto del macchio, per quanto riguarda tutto ciò che ha finabilità dei lavoratori che comunque veicolano e lavorano, e protezione anche di coloro che hanno spiccato il livello di creatività, che a volte sono anche soggetti a quelle che sono eventuali minuti, tra piccoli ente, industriali, e quindi sicuramente le investigazioni anche in questo settore possono avere un ruolo predominante rispetto ad altri settori. È ovvio che tutto può dipendere poi da ciò che veicola, da ciò che si muove intorno. Soprattutto da quale tipi di reciprocità si deve affrontare, di volta in volta, per il stilista e soprattutto c'è anche la società, diciamo, l'atterie, il laboratorio che gira intorno al stilista. Soprattutto delle problematiche sono sostanzialmente molto semplici come tutte le altre imprese, in cui in aggiunta c'è un apporto infonente di protezione alla creatività e alla sicurezza anche dei responsabili di queste società.